Da tempo attesi e sollecitati, in particolare dal comune di confine di Castelvetro-Piacentino, sembrano ai blocchi di partenza i lavori per la manutenzione straordinaria del vecchio ponte di ferro sul Po, che collega la regione emiliana e la provincia di Piacenza con la Lombardia e il territorio cremonese. Il via libera al progetto definitivo è stato dato dalla provincia di Piacenza, al lavoro questa mattina con i suoi tecnici, verso la prossima conferenza dei servizi. I lavori erano già stati messi in agenda, il contributo era arrivato tre anni fa, quando il Ministero delle Infrastrutture aveva destinato all'opera 7 milioni e mezzo di euro, un progetto che dovrà ora attendere ancora per vedere la luce a causa dei tempi lunghissimi della burocrazia, persa e divisa tra diversi territori provinciali e regionali e per il passaggio di competenze della strada da poco tempo ad Anas. Il via libera della provincia riguarderà anzitutto i rinforzi in acciaio, l'adeguamento delle sottostrutture e interventi in cemento armato alla soletta. Finalmente dunque si mette mano strutturalmente al ponte, datato fino a 800 nelle parti più vecchie, per garantire la sua sopravvivenza e la sicurezza del chilo percorre. In tanti anni non sono invece mai finiti i lavori ai giunti, gli interventi di manutenzione ordinaria, mentre il peso e la velocità dei mezzi in transito sono finiti più volte nel mirino per la pericolosità e i danni al manufatto, tanto da richiedere l'installazione di un sistema di sorveglianza. Dopo la conferenza dei servizi che dovrà essere convocata a breve, tempo 60 giorni sarà indetta alla gara per una giudicazione che dovrà arrivare in pochi mesi. Altre settimane serviranno per la consegna dei lavori e quindi le tempistiche non saranno inferiori all'anno. Altro nodo da sciogliere è l'organizzazione della circolazione durante i cantieri, per ora l'obiettivo è quello di non chiudere completamente l'infrastruttura, preferendo, ove possibile, il senso unico alternato.